Oggi c'è tantissima gente, francamente io non me l'aspettavo tanta gente, questo sta a significare che c'è voglia di ascoltare buona musica che sia di un certo livello e soprattutto che sia coinvolgente, oggi abbiamo coinvolto tantissime persone e mi fa piacere di qualsiasi fascia d'età, dai più giovani ai meno giovani, musicisti e non musicisti, oggi per me è una grande soddisfazione aver riscoperto un luogo di Crotone che è Palazzo Giunti, devo ringraziare se mi è consentito di proprietari di questo palazzo che non ci hanno pensato come dicevo prima nemmeno un secondo per dirmi, Paolo vieni perché abbiamo piacere a sentire buona musica e ad avere un pianoforte nella nostra corte. Oggi andremo dalla Tassi Chopin fino ad arrivare alla musica del Novecento che viene contaminata, la musica del Novecento che va contaminata anche il jazz, quindi musica a 360 gradi sul pianoforte con tanti interpreti che sono di grande spessore e di grande valore. Cominciamo a scoprire che noi abbiamo delle eccellenze, delle situazioni, dei vecchi che hanno delle idee come me e dei grandi pianisti che hanno voglia anche di esprimersi qui a Crotone e non hanno niente da invidiare a nessuno.